eccoci qua stai per entrare nella mia vita stai per entrare nelle mie case stai per entrare nella mia routine ma prima di tutto volevo ringraziarti per la fiducia e dirti che seguendo i miei consigli questo sarà l'investimento più felice della tua vita perché ho deciso di fare questo corso perché credo che ognuno di noi in differenti modi abbia il dovere di trasferire l'esperienza che lo ha reso riconoscibile e lo ha portato ad eccellere in un particolare ambito attraverso i miei consigli io voglio che tu diventi parte della mia routine voglio che la tua routine diventi la mia routine voglio che tu sia con me nel momento in cui impigrito sul letto io decido di alzarmi perché vado a fare qualcosa che per me è uno svago voglio io essere con te e tirarti su per un orecchio nel momento in cui tu impigrito vorresti stare a letto invece io ti farò capire che devi andarti ad allenare io ti farò capire che attraverso l'allenamento renderai la macchina del tuo corpo macchina con la quale fai il percorso di questo dono stupendo che è la tua vita e lo renderai perfetto lo renderai perfetto nel senso efficiente voglio portarti a convivere meglio con il tuo benessere fisico voglio portarti a sorridere quando devi andarti allenare voglio che attraverso la convivenza con me tu possa entrare in un mindset che ti dia la possibilità di fare cose che oggi non puoi fare perché non hai le chiavi per farlo ti svelerò un segreto alla settimana per far sì che tu riesca a trasformare un terreno ostile in un terreno amico un sacrificio in uno svago perché tu faccia sì che quello che per te oggi è uno sforzo un sacrificio un qualcosa che fai contro voglia diventi un qualcosa di irrinunciabile qualcosa che non vedi l'ora di poter fare perché giorno dopo giorno vedrai i risultati sul tuo corpo ricordati che curare il nostro corpo è l'investimento più incredibile del mondo perché ha un rendimento a breve termine enorme e un rendimento incalcolabile nel lungo termine non esistono investimenti che hanno una rendita immediata alta e un capital gain gigantesco nel tempo il corpo è così perché tu vedi dei suoi risultati immediati e vedi un risultato gigantesco perché quando hai 51 anni come io sei ancora un ragazzo e fai sì che l'età diventi una scelta fai sì che l'età diventi un numero fai sì che potrai fare delle cose che magari non fai neanche oggi che hai 25 30 anni ti posso fare una domanda devi darti tu la risposta ovviamente se tu hai una ferrari in garage perché non la usa c'è una giornata di sole usa questa ferrari questa è una metafora quando tu fai ginnastica produci una sostanza che si chiama endorfina l'endorfina ti dà il buon umore noi abbiamo tu hai la macchina del buon umore dentro di te hai la tua ferrari del buon umore dentro di te nel garage del tuo corpo perché la devi lasciare spenta gira quella cazzo di chiave e accendi la macchina del buon umore produrre le endorfine diventerà una cosa irrinunciabile perché quando uno corre tutti i giorni si allena e poi per un po' non lo fa si sente male perché si vede un po' più grasso no perché gli mancano le endorfine le endorfine sono il segreto del buon umore perché la gente mi dice come fai tu essere sempre di buon umore io sono mister enjoy mister enjoy si nutre di endorfina le divora le endorfine perché nel momento in cui sarebbe più comodo restare a letto e riposarsi 20 minuti perché il corpo ti cede non riesci ad alzarti no io mi alzo io mi alzo mi metto le scarpe e vado a fare ginnastica perché accendo la macchina che mi produce il buon umore della sera del giorno dopo fanno anche tu spolvera la macchina che hai in garage e aiutati a produrre il buon umore l'endorfine un segreto alla settimana un segreto alla settimana per girare felice con la tua ferrari è il buon umore Grazie a tutti.